La cosca Piromalli rimane saldamente in testa all'ideale classifica dell'andrangheta regina del mandamento tirrenico. Nonostante la scessione, avvenuta dopo cent'anni di storia, con la cosca Molè, la storica cosca Piromalli di Gioia Tauro continua a dominare l'intera piana, spingendosi fino a Milano e volando fino in USA, e quanto emerge dalla relazione della DIA, la direzione investigativa antimafia, relativa al primo semestre 2017. Nella piana di Gioia Tauro risulta consolidata la leadership della storica cosca Piromalli. Si annovera inoltre la cosca Molè, federata con i Piromalli sino all'omicidio di Rocco Molè, avvenuto nel 2008. Nel corso del semestre le cosche dell'area sono state ripetutamente colpite dall'azione di prevenzione di contrasto portata a segno dalla magistratura e dalla polizia giudiziaria. E nel mese di gennaio l'attività, convenzionalmente denominata Cumbertazione 5 Lustri, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e Catanzaro è conclusa dalla Guardia di Finanza con il fermo di 35 responsabili e con il sequestro di beni per un valore di circa 10 milioni di euro. Le evidenze raccolte nell'ambito della citata operazione sono state riprese nella proposta di scioglimento del comune di Gioia Tauro, a firma del ministro dell'Interno, che non ha mancato di sottolineare come nell'approfondire i profili imprenditoriali della criminalità organizzata operante nella piana di Gioia Tauro, gli inquirenti hanno acclarato il ruolo svolto all'interno dell'amministrazione comunale dal responsabile del settore lavori pubblici. Un contesto dove il sindaco e un cospico numero di assessori e consiglieri vantavano legami familiari con gli esponenti della criminalità organizzata. Proseguendo nella descrizione delle dinamiche criminali dell'area, il porto di Gioia Tauro si conferma tra le rotte preferite da trafficanti internazionali di stupefacenti. In questo contesto, più precisamente nel comprensorio di Rosarno San Ferdinando, le cosche Pesce e Bellocco gestiscono le attività illecite attraverso il controllo e lo sfruttamento delle attività portuali. La centralità di quest'area portuale ha trovato ulteriori conferme nel semestre, grazie alle evidenze emerse nell'ambito dell'operazione denominata GERRI. Le indagini hanno svelato un sodalizio estremamente articolato, dedito all'importazione di cocaina da Sud America, attraverso proprio lo scalo portuale di Gioia Tauro.